Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il vasto incendio rivampato oggi all'interno del deposito di monopattini in via Nevada Grotta Mare è stato completamente spento. Non c'è più traccia della nube di fumo nera che si è allevata all'alba in zona Valtesino, spostandosi poi verso il centro e verso est, lasciando però per diverse ore nell'area un odore acre di plastica bruciata. Sul posto hanno operato dalle 6 del mattino fino al tardo pomeriggio i vigili del fuoco con diversi autobotti e una toscala giunti dal distaccamento di San Benedetto e dal comando provinciale di Ascoli Piceno. Il personale si avvicina all'area dell'incendio con l'utilizzo di un autorespiratore e quindi abbiamo portato qui sullo scenario direttamente il nostro autocarro che ci permette di un ricambio immediato e quindi particolarmente efficiente delle bombole necessarie al personale che è impegnato nelle fasi di spegnimento. Comunque la presenza di materiale particolare presente all'interno delle batterie sicuramente ci porta a un avvicinamento oltre che ai prodotti della combustione e dell'incendio all'utilizzo appunto degli autorespiratori quindi per avvicinarci e proseguire lo spegnimento del materiale insomma ancora coinvolto dall'incendio. A preoccupare anche la presenza di batterie a litio che fungono da carica per i monopattini. Sono però ancora in corso le verifiche da parte dell'ARPAM e di ASUR che hanno installato due centraline per controllare la qualità dell'area una nelle vicinanze dell'area interessata l'altra nel centro abitato. La situazione verrà monitorata per altre 72 ore fa sapere il comune di Grottamare in una nota ma in attesa dei dati nessuna ordinanza è stata emessa per vietare ad esempio la raccolta e il consumo di ortaggi nella zona. In mattinata era stata data soltanto la raccomandazione a chi vive nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse. Mentre potrebbero arrivare già domani i risultati del campione della porzione di tetto prelevata dal capannone per capire se vi siano tracce di Eternit. Le nostre immagini mostrano anche la devastazione provocata da rogo all'interno della struttura sede della ditta Epicar andata completamente distrutta assieme a migliaia di monopattini. Un danno stimato di circa un milione e mezzo di euro. A pochi metri anche la ricicleria comunale della Picena Ambiente dunque dove è stoccato materiale come carta, cartone. Scampato pericolo proprio perché l'incendio è stato circoscritto in tempi brevi ma sono stati proprio alcuni operai della Picena Ambiente a lanciare per primi l'allarme già alle 5 del mattino mentre alle 4.30 come ci ha dichiarato il titolare della ditta Epicar era suonato l'allarme sul suo cellulare. Ora le indagini portate avanti assieme ai carabinieri vanno avanti ma da una prima ricostruzione si escluderebbe il dolo. Più probabile invece un cortocircuito elettrico o il malfunzionamento di qualche batteria tutto materiale di provenienza cinese.